www.feyyaz.tv Non è che il cambio non vado a vedere la parola, perché se non so, se non ti fai... Tutto ormai, anche il compositore, perché lo so che è l'escrizione. Mi fanno che tu parli alla schiena, dai lontano. Da 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 da... Ok, perfetto, benvenuta. E la parte principale sono un fa e un lato volvo. Allora facciamo tessine. Ah, continuiamo qui. Tu sei... no, tu sei apposta. Tu fai... A Dabbi, ma... A Dabbi, ma... A Dabbi, ma... A Dabbi, ma... Sì, ma la doterà più. A Dabbi, ma... A Dabbi, ma... A Dabbi, ma... Ah, non... Ci siamo. Ci siamo? Oh, noi... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.